L'arbitro del match Caldera di Cobo, le scelte dei due tecnici del Pescara fuori, Cacianotti, Derisio, Drudi, c'è la novità sostanziale, Nzita dopo sei panchine consecutive neanche un minuto in campo al posto di Rasi davanti Rauti e Dursi a supporto di Ferrari in panchina, Pontisso e Cernigoi, i nuovi sono arrivati al mercato di gennaio, entreranno nella ripresa a Carrarese senza Dauria, Foresta e Lex Giannetti, 4-3-1-2 Bramante, Trequartista nella terra di nessuno alle spalle di Energe e Petrelli, l'allenatore naturalmente Totò di Natale a Pescara, ha esordito in nazionale il 20 novembre 2002, allenatore CT dell'Italia Giovanni Trapattoni, 150 gol in Serie A con la maglia dell'Udinese il 3 marzo 2013, Pescara 0-Udinese 1, il Pescara era allenato da Bergodi, queste le fasi iniziali della partita, siamo al terzo minuto con la Carrarese che manovra, il trequartista mette in difficoltà non poco il Pescara e c'è proprio il sinistro di Energe, passato anche nel Chieti da dicembre 2019 a giugno 2020, lo scorso anno 13 gol nella Fragolese, classe 2000 Fragolese in Serie D, qui l'opportunità per Marino che impatta male il pallone in anticipo su Ferrari sull'angolo calciato da Berardocco e questa è la grande opportunità per la Carrarese, c'è Battistella che apre troppo forse il compasso, però insomma il pallone termina di un soffio al lato alla destra della porta difesa da Sorrentino, l'ex della partita è Berardocco che fa girare la squadra ospite, classe 91 Montesilvanese, Doc cresciuto nel divaio, nove presenze nella stagione 2010-2011 nel Pescara in Serie B, gestione Eusebio Di Francesco, il metronomo dunque della Carrarese, rinforzo del mercato di gennaio lo scorso anno alla Juve Stabia, qui ancora la formazione ospite con un destro di Petrelli, blocca senza problemi, il portiere del Pescara Alessandro Sorrentino, ancora la Carrarese che manovra con grande facilità sull'out di destra, lato corto dell'area di rigore, c'è la conclusione di Energia e poi il tiraccio di Battistella, classe 2001 in prestito dall'udinese, sicuramente uno dei giocatori migliori della squadra di Totò di Natale, 39esimo minuto nel corso del primo tempo, si sblocca la situazione, in zita per Ferrari, il colpo di tacco, il sinistro di Pompetti forse deviato, inganna il portiere Vettorelli, l'infortunio è chiaro da parte del stavo difensore della Carrarese, Pescara in vantaggio, la prima conclusione verso la porta avversaria, 39esimo, rivediamo il sinistro di Pompetti, centrale forse una deviazione, forse vede il pallone all'ultimo momento, fatto sta che l'intervento del stavo difensore della Carrarese, Vettorelli classe 2000, è piuttosto goffo, Pescara in vantaggio, il secondo sigillo in campionato per il classe 2000, il regista della squadra di Biancazzurra, vediamo ora il sinistro invece nel secondo tempo di Petrelli con la palla che termina altissima, da buona posizione, siamo al primo minuto della ripresa, la Carrarese naturalmente mette in difficoltà, soprattutto in avvio di ripresa, la formazione Biancazzurra, un po' come era successo in avvio di partita all'inizio della contesa, ma attenzione perché qui c'è un break del Pescara con il tentativo di Rauti rimpallato, e poi ancora Pompetti che carica il sinistro, c'è la deviazione, tiro sporcato, la palla termina ampiamente, sopra la traversa della porta difesa da Vettorelli, si riprenderà con un calcio d'angolo senza esito, 49,50 nel corso di questa partita, seconda palla che viene riconquistata dalla Carrarese sull'auto di destra, Semprini che aveva preso il posto di Grassini, c'è la girata di Petrelli, l'intervento risolutivo di Sorrentino, e poi ci mette una pezza anche Zappella sul tapino dello stesso Elia Petrelli, classe 2001, cresciuto nella Juventus di proprietà del Genoa ex Regina e Ascoli, perde il pallone malamente, diciamo ingenuamente, poteva fare meglio Zita, e c'è l'azione e il gol della Carrarese, tutta in verticale con Battistella dentro, il pallone viene sporcato da Veroli e poi Energe per Petrelli, il suo tocco è delizioso. Sull'uscita di Sorrentino, il pareggio della Carrarese, minuto 58 nel corso della partita, il primo gol con la baglia della Carrarese per Elia Petrelli che è uno dei rinforzi del mercato di gennaio, lo va a abbracciare anche Totò di Natale, rivedremo tra poco l'azione perché insomma qui si poteva fare decisamente meglio, è vero c'è stata la deviazione di Veroli che ha spiazzato un po' l'intera retroguardia a Biancazzurra, ma è stato lasciato scoperto il lato sinistro, bravo poi Energe che sente l'arrivo di Petrelli, l'uscita di Sorrentino, il tocco morbidissimo di Petrelli a scavalcare l'estremo difensore della Pescara, uno a uno il parziale nel corso di questa ripresa, tredicesimo minuto del secondo tempo, dunque il pareggio della Carrarese con Elia Petrelli che va a festeggiare davanti alla telecamera di Eleven Sport, vediamo ora il Pescara che prova ad attaccare Cernigoi, è entrato in corso d'opera, bravissimo a liberarsi di Semprini, sostituto di Grassini ma il sinistro è da dimenticare, buono comunque l'impatto col match da parte di Cernigoi, classe 95 arrivato in questa sessione del mercato invernale dal Seregno, poi ancora Pontisso che prova ad impensierire, a sorprendere il portiere Vettorel che si salva in qualche modo sugli sviluppi di un calcio di punizione, anche Pontisso, uno dei volti nuovi nel mercato di gennaio, entrato in corso d'opera, classe 97, prestito secco dal Vicenza, attacca a testa bassa ma poche idee da parte della Pescara, 88esimo minuto nel corso della partita, sempre uno a uno il parziale, il pallone che viene girato sulla sinistra, Rasi effettua il cross, la palla sta per la traiettoria, sta per tradire Vettorel che si salva alzando la sfera oltre la traversa, 94esimo, sempre uno a uno, nel finale ci sarà uno spavento procurato da Tunjov, Tunjov che dir si voglia l'Eston è entrato in corso d'opera, che è entrato in area, palla in mezzo e la difesa è riuscita in qualche modo a sventare la minaccia, non abbiamo questa azione, finisce uno a uno tra Pescara e Carrarese, senza dubbio un passo indietro da parte della squadra di Gaetano Auteri.